Salve a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovo video, io sono Zetacloud ed eccoci qui tornati con un nuovo episodio della carriera allenatore su FIFA Ragazzi, nello scorso episodio, nei commenti, alcuni di voi, alcuni iscritti mi hanno commentato e mi hanno contattato anche in direct su Instagram Quindi ragazzi vi invito veramente ad andare sul mio profilo Instagram e seguirmi, di seguire dei portieri perché mi avete fatto notare che Andanovic sta anche lui calando e Padelli è prossimo al ritiro E quindi molti mi avete consigliato Lunin, però ragazzi altri anche Brasau e Zlobin che hanno aggiunto con la recentissima patch Poi ragazzi io di mia personalissima così intuizione ho cercato di seguire Trincao di cui si parla tantissimo, non credo sia un campione Però lo lasciamo un attimo qui e poi ragazzi come esterno sinistro per sostituire eventualmente un Perisic ho individuato un Gnabri come si dice O eventualmente Coman che ragazzi mi piace forse pure di più di Felipe Anderson, sì credo proprio di sì, quindi vediamo come si evolve Comunque ho mandato i nostri osservatori ad osservarli, quindi vediamo come andrà a finire Scusate piccolo inconveniente con il gruppo di continuità ma comunque bando le ciance Oggi abbiamo una partita difficilissima con il Napoli, contro il Napoli Crediamo di scegliere le magliette, credo che così vada più che bene Ragazzi direi di schierare la nostra formazione Nell'ultima partita direi che Robben ha fatto bene quindi deve essere titolare Candreva non lo mettiamo, non lo portiamo neanche in rosa Il nostro Gelsomino Martins deve esserci Io direi di far giocare Vesino al posto di Rakitic, magari Rakitic ce lo portiamo però in panchina Al posto dello stanchissimo Borca Darei un turno di riposo a Jordi Alba e anche a Daina e farei esordire il nostro TD Emerson Lasciamo tutto così e ci aggiungiamo a giocare la partita Siamo pronti, siamo carichi, ancora Mauro Riccardi in campo senza la fascia Vi ricordo, vi rinnovo la sfida che abbiamo fatto Se riuscirà a fare 15 gol entro gennaio gli ritornerà la fascia da capitano Anche se nonostante la mia amarezza nel video precedente che mi invito a vedere Ragazzi sul gioco è troppo forte, Riccardi dobbiamo tenercelo Perché è ancora in crescita e arriva a 89 penso fra poco Quindi ce lo teniamo Adesso bando le ciance, Inter Napoli Guardate come fa a possesso palla il nostro Napoli, porca vacca Proprio il Barça gli fa un baffo, altro che Sarrismo Qua l'ancelottismo prende il sopravvento, attenzione Raja cerca di rubare palla ma ancora il Napoli Che si protrae, no 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 vai Godin Grandissimo, ci mette l'anca Godin Lo stempiatissimo Godin, sempre lui Madonna santa Vai Godin, vai Godin, grandissimo anda con la fascia di capitano, grande Ci salva Non ci facciamo imbucare proprio adesso Attenzione, Raja, che cosa fai Raja? Si riparte dal ninja Nengolan, ancora il ninja Il ninja, vede sulla... accanto Icardi, attenzione Icardi Il pensionatissimo Robben, vede lo scatto fulminio di Dalbert, tanto fulminio non è Ancora Dalbert, Dalbert si propone sulla fascia, il cross al centro, verso Icardi Niente, la maledizione del nostro Maurito continua, ma ancora L'errore del portiere del Napoli Arian Robben, ancora La manina Robben e il pensionatissimo, sempre lui per Marcello Brozovic, la valla gira per Dalbert Che vede lo scatto sulla sinistra di Ivan Perisic Ancora Perisic, Perisic, Perisic Cross al centro per Robben Con la pelata Non riesce a centrare la porta Il pensionatissimo Robben Ma la strida a rodelle, ragazzi, fa i suoi effetti Guardate come si destreggia ancora a 90 anni Il nostro Robben Ok, grande screener Bella Nengolan, ancora Nengolan Vede Icardi, Icardi Vede Robben Robben per il ninja Ancora il ninja Vai il ninja Fuori gioco Porca vacca Pensavo di poter segnare Sta per finire, ragazzi Anzi, dovrebbe fischiare Subito Ancora no Abbiamo un'occasione Vai Icardi No, ma dai Ma dai Stava scattando Robben Ma dai, ma dai Ma che cosa fanno Ma dai, ma per favore Ragazzi, dobbiamo dare delle istruzioni migliori ai Cardi Perché non so Rientra sempre Rientra sempre, no Inserisci dalle spalle Rimani centrale Aggressive Penso che sia così, ragazzi Perché noto che torna sempre a centrocampo Io voglio proprio che deve essere lì Vicino al portiere Come, insomma, il suo modo di giocare Ancora 0-0 Si riparte, ragazzi Speriamo di fare meglio Anche se meritiamo noi, insomma Attenzione Il pensionatissimo Robben Guarda lo scatto Fulminio Con le stampelle Robben Robben Crossa di destro Veramente osceno Ma è la palla ancora nostra Facciamo crossare sempre a Robben Perché ha il sinistro magico Attenzione La palla verso Icardi Vediamo Mauro Mauro Traversa Non ci credo Niente, ragazzi È maledetto Questo giocatore Ha una malizione in corpo E non gliela toglie nessuno Guardate Guardate come Si spiaccica sulla traversa Niente Non possiamo far fare Neanche un gol ai card Niente È scritto nella pietra Nella roccia Che cerca di fraseggiare Sbracalo 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 Grandissimo Defraim Ma ancora è loro Attenzione No, 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 no No, 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 no Meno male, ragazzi Meno male Stavamo a fare una bella Capperata proprio Attenzione Per Skriniar Skriniar Per Godin La palla gira per Emerson Emerson Ancora per Vesino Vesino La palla gira per Robben Robben Che scatta Ma mi sa che basta La bombola d'ossigeno È finita Icardi in partenza Lo dicono anche loro Ragazzi Ci sono delle voci insistenti Sul suo conto Ragazzi E lo sanno tutti Cambi, cambi, cambi Cambi Basta Robben è arrivato La bombola è finita Gelsomino Martins Cabral I cambi che nella scorsa partita Ci hanno fatto vincere Arretriamo Nengolan E facciamo entrare anche Chamberlain Che mi sembra abbastanza Fluidificante In mezzo al campo Forza ragazzi Forza ragazzi Facciamo questo gol E battiamo il Napoli Perché ragazzi Veramente Ci siamo meritati La vittoria In questa partita Abbiamo giocato Molto meglio di loro Attenzione L'errore di Skriniar Meno male Meno male che lo stempiadissimo Godin Ci riesce a salvarci Emerson Lo vedo veramente Macchinosissimo Gelsomino Farci esaltare Come nella scorsa partita Gelsomino Si lancia Una freccia Ancora Gelsomino Vede Icardi Il maledetto Icardi Ma niente Il cross non ci arriva Per Dalbert Nulla ragazzi Vai Skriniar Skriniar Arcigno Per Icardi Attenzione Ancora il Napoli Il Napoli si rende pericoloso Con questo scatto Di Verdi Freschissimo Verdi Il cross Verso il nano Allan Attenzione Allan Meno male Il piedone Dello stempiato Godin Ancora il Napoli Ma La palla Viene ricordata Chamberlain Ancora per Gelsomartins Gelsomartins Ma ho sbagliato io Ho sbagliato io Ancora Gelsomino Ma che giocatore Che giocatore Ancora Brozovic Per Chamberlain Freschissimo Ancora Gelsomino Gelsomino Si botta la palla in avanti Dal Che cosa ha fatto Ma che cosa Ma che tiro di testa è Attenzione Non becchiamo con le ripartenze Perché è veramente Sfaso No 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 Vai Godin No Il pietone Messo dopo Attenzione Skriniar Salvaci Niente ragazzi Abbiamo pareggiato Pareggio con il Napoli Che ci sta stretto Ragazzi Perché abbiamo fatto Una partitona Alla fine Dalbert Ci purga Perché sbaglio Un gol Porta praticamente Sguarnita E niente Champions League Vediamo con chi Capitiamo nel girone Siamo nel girone Ragazzi Con Dortmund Galatasaray E Feyenoord Quindi veramente Un girone Abbastanza facile A parte il Dortmund Comunque Facciamo Allenare I nostri giocatori Ci facciamo Anche la prima Di Champions Sperando Di vincere Stavolta Facciamo giocare Adesso I titolari Ragazzi Perché Non possiamo fallire Dobbiamo fare bene Almeno in questa partita Quindi ragazzi Direi Rakitic Titolare Insieme a Chamberlain Cabral A sinistra Gelsomino A destra Poi facciamo Giocare Jordi Alba Che è già lì E io direi ragazzi A questo punto Di far giocare Lautaro Martinez Togliamo Godin E facciamo giocare Defray Penso che così Vada bene Speriamo di Vincere ragazzi Perché assolutamente Ci servono tre punti Per dimenticare Il pareggio ingiusto Contro il Napoli Perfetto Si inizia Feyenoord Inter Giochiamo in casa loro Giochiamo in Olanda Non sfiguriamo Attenzione La palla gira Il Feyeno sulla fascia Raja Intercetta tutto Ripartiamo Iman Rakitic Vede Gelsomino Gelsomino La freccia La freccia Attenzione La freccia Per Cabral Ancora Cabral La gira per Rakitic Rakitic Prestiamole Attenzione Niente Rakitic Non è in forma Ultimamente Lo sta dimostrando Ancora Il Feyenoord Ci prestano Ci distruggono Questi Possesso palla Tutti Barcellona Sono in questo gioco Attenzione Giovine Cabral Ancora Lautaro Vede lo scatto Di Cabral Ancora Cabral Il giovanissimo Giovane Cabral Fare un po' di skill Attenzione Cabral Ancora Cabral Niente Niente È arrivato stanco morto Ancora Raja Vede Gelsomino Gelsomino Che viene fermato Ma ancora il ninja Ho scaricato per sbaglio Ancora Chamberlain Li stiamo schiacciando Chamberlain Ancora per Iman Rakitic 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 La passa Daina Ancora Laina Per Rakitic Il ninja Lautaro Martinez Non troviamo sbocchi Ancora Gelson Martins Ma mi sa che è in posizione irregolare Mannaggia Il ninja Vedo lo scatto Di Lautaro Martinez Che propone ancora in avanti Per Gelsomino 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 Il cross al centro Per Cabral Che non c'è Sono tutti nani Le mie fasce Tutte nane A parte Perisic Ancora Gelsomino Gelsomino Grandissimo Gelsomino La fascia di capitano È tua Se continui così Ancora Cabral Per Jordi Alba Vedelo Sfondo al centro Non c'è nessuno Nessuna ricevete di testa Nessuno Siamo scoperti Siamo scoperti Il Fener Attacca sulla fascia Uccidili le capiglie Uccidili le capiglie Attenzione Non è Jordi Alba Che è un nano Vai Rakitic Vai Rakitic Fatti valer Niente Rakitic Ha pure lui Ha bisogno delle stampelle Ragazzi Mamma mia Orribile Anche lui Vai Rakitic Vai Rakitic Forza Madonna Ma che sta facendo Quello del Feynord Ne sta andando a casa Attenzione Cabral Che sbaglia Il cross Cabral Torna dietro Hanno una fortuna Questi Mamma mia Ancora Ci imbucano Questi ci imbucano Vai Skriniar Vai Skriniar No 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 Meno male Traversa Oddio Esci Esci Madonna Santa L'abbiamo scampata Tra poco La porta Cioè Cadeva a terra Avete visto Come Come si è Immossa Siamo stati Fortunati Alla fine Anche se Ragazzi Benitevamo Noi In tutta la partita Rakitic Ragazzi Mi sembra Troppo 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 Spento Come Facciamo Facciamo una cosa Mettiamo i Cardi E L'altro Lo facciamo giocare A supporto Di Cardi Ragazzi Proviamole tutte Dobbiamo vincere Assolutamente Dobbiamo vincere Non ci basta Il pareggio Qui Ancora Lautaro Martínez Lautaro Martínez Nella sua posizione Inedita Di trequartista Lautaro Si prende Tutto Quanto è forte Questo giocatore Ancora Lautaro Martínez Si propone In avanti Per Cabral Il cross al centro Vai Mauro Riccardi Fallo Non ho più parole Ragazzi Per descrivere Il fallimento Di un uomo Veramente Ma Voi vi rendete Conto Quante occasioni In tre episodi Vi invito Veramente a guardarli Per vedere Quante occasioni Ha avuto Mauro Riccardi Li ha sbagliate Praticamente Tutte Tutte Davanti alla porta Tutte Niente Vuole essere ceduto Ragazzi Mi dispiace Vuole essere ceduto Attenzione Lautaro Martínez Ancora Lotta Per Rimediare L'errore Del compagno Ancora Chamberlain Sulle chiappe Gli sbatte Ma è calcio D'angolo O punizione Attenzione Punizione Ragazzi Punizione Non sono bravissimo Con le punizioni Ma ci proveremo Facciamo calciare Magari di qualcuno Di più Affidabile Nessuno Praticamente Nessuno Bene Quindi Il ninja Ci proviamo Con il ninja Attenzione Il ninja Sulla schiena Niente di fatto Proviamo a crossare Forza Mauro Forza Mauro Mertigli la testa Mauro Non ho parole Non ho parole Ragazzi Piango Non ce la faccio più Non ce la faccio più Ve lo faccio rivedere No basta Perché Poi non mi Credete Voi non mi Credete Guardate 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 Tira di testa Traversa Il fallimento Di un uomo Perisic Per Aina Forza Aina Cross al centro Aina Attenzione Icardi Primo gol Nella stagione Per Mauro Icardi Che si fa Perdonare Si proprio In fascia Gli esulta Si fa Perdonare Per tutte Le delusioni Che ci ha provocato Mauro Icardi Gol all'83esimo Guardate Che gollazzo Che ha fatto Mauro Icardi Sul cross Di Aina Perfetto Mamma mia Che gol Ti vogliamo così Maurito Dai 1-0 Palla al centro Un minuto Ragazzi Manca Un minuto E l'Inter Porta a casa Una vittoria Eccezionale Veramente Ci serviva Come il pane Questa vittoria Sono tre punti Che mettiamo In cascina Per assicurarci Il passaggio Del turno E quindi Adesso abbiamo Il torino E niente ragazzi Il video si conclude Così Vi ricordo Come al solito Di iscrivervi al canale Che è molto importante Abbiamo da poco raggiunto I 1600 iscritti Grazie Grazie Veramente Grazie Di cuore L'Inter Comunque Si trova Al sesto posto Purtroppo Abbiamo 8 punti Il Cagliari Ancora Continua a vincere Siamo a meno 4 Al primo posto Ancora tutto È fattibile Ragazzi Vi ricordo Di seguirmi Anche su Instagram E su Facebook Che è molto importante Adesso è veramente tutto Ciao Da Zita Cloud